musica 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 allora ragazzi nuovo episodio da bel mio fratello bello a tutti ragazzi allora oggi ce ne andremo nel nether per farmi raccogliere tanto 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 eeeh ci porteremo dietro un po' di fortuna e vuoi lì si pensi a se non vince no no lo utilizziamo vabbè l'utilizzeremo poco un po' di fortuna come dice mi vedendo io mi porto lo stesso con l'inferno e vi ricordiamo che abbiamo 64 più 56 di quattro quindi lì tu sei pronto si è un attimo mizzica sempre sera è utile magari mi portella tu c'hai? si 49 allora andiamo a dormire ma se si mi sembra sempre che non ci sia ma non è normale si dov'è la cascina sopra ce n'è anche un pezzo si però dico qua io ne avevo messo per l'altra non lo so c'ho il mazzo che finca non lo so vabbè 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 che appena l'avremo se chissà in tutto quanto cose abbiamo preso sta arrivando comunque ci vediamo dopo ciao a dopo se finalmente siamo di nuovo a casa non sapete quante cose ha raccolto il mio fratello ora li metterei in una cesta a parte praticamente voi state dicendo a questo quarto a che cosa servirà poi lo vedete giustamente appena faremi tutto facciamo tutto mettiti qua e poco fa quando eravamo nel nether per non laggare no 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 non guardare non guardare in poche parole abbiamo messo in pacifica perchè sennò già vince non ci metterò tutto sennò io dove me li metto le cose è la cosa della nether non ha importanza noi io dobbiamo fare vedere il falso perchè il piccolo in diamante oh minchia distruggisti non è vero 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 allora guardate quanto ho fatto il mio fratello in cui io giustamente dovevo avere il cotoletto bevevo con il martone guardate qua e mi ho riempito una cesta di quarzo vabbè comunque ci servirà per fare la papilla fai vedere a quanti usi è che piccola a 932 prenditi il forzo di mangiare e e già via perchè se facciamo una cesta a parte per il quarzo ci fa una cesta picca e 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 sottuna abbiamo abbiamo lavorato in pacifica se no non ce la facevamo si perchè abbiamo trovato pure un altro castello e 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 giustamente sarà qui e e e e e e qua ho fatto un altro castello e e e e qua ci sarà la salita e per la torre degli scritti e e partire da qua da qua qua ci sale un altro sarà una cosa spettacolare e cioè in poche parole improvviseremo improvviseremo appunto perchè va abbiamo sempre fatto così quindi non è il mio problema dov'è la scelta la scelta oh mio dio e ragazzi quella ah no l'hai tolto si perfetto e quindi ragazzi per questo episodio è tutto anzi 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 il piatrisco incominciamo a mettere tutti i piatrisco e e allora giovanni io direi prendi il carbone se prendiamo allora e ne cuoce uno sacche sedici perciò vince io devo riempire intanto queste borgaci perchè noi dividiamo i carini capito dammi un po' di perchè l'hai trasformato come lo cuoci qua ok dammi un po' di carbone e e e un po' di carbone e 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 sperando sempre che ci basse il materiale a posto mai ho visto la pornacee lavorare così le patate cotte che ci fai che ci facevano nella tua cesta poi ha messo tutte cose a cuocere si aspetta forse anche la 64 e vince se chissà e e ma spero che giustamente questo basti e nel mentre vi faccio vedere come si fanno i blocchi in caso come si può fare tipo dal conto piccolo e da la nostra che ha più tempo le portate qui da 2 a 4 a 4 per ora ne graffiamo al 64 64 oh mio dio guarda tutto non ci vero mio dio già abbiamo realizzato il testo mai abbiamo visto la pornacee che funzionano così quindi ragazzi le pornacee servono no no aspetta mettiti la in mezzo nella torcia aspetta a posto va va accanto a me con te eh che devo fare aspetta f2 si comunque ragazzi eh per questo episodio è tutto da me e mio fratello vicerall ehm e che dire non perdetevi l'episodio di domenica perché sarà FORUM MEDIDABLE FORUM MEDIDABLE a dire si mio fratello sta riparando il piccone abbiamo avuto 44 di esperienza quasi io 45 riempita al massimo cioè vada quindi quanti diamanti hai sprecato? 2 meglio si va e quindi da me e mio fratello vicerall è tutto ci vediamo al prossimo episodio e non mancate su quello di domenica da me e mio fratello vicerall è tutto ciao a tutti ciao a tutti